Il passito rosso che purtroppo è rimasto un po' incompreso nel mercato extraprovinciale anche se nella nostra provincia fino a poco tempo fa era il vino più rinomato, più pregiato. La sua speciale dolcezza data dall'appassimento delle uve e dalla sua concentrazione di sostanze lo rendono pieno e scuro e questo mi ricorda la piena passione che probabilmente si può tenere solo con l'amore e quindi infatti mio zio mi diceva sempre che se vuoi conquistare una ragazza è meglio se gli dai un bicchiere di ricciotto prima, magari no, via gara, ma con l'amore e quindi a questo vino abbineremo una balla di jazz che si chiama Loverman. A questo vino abbineremo anche il cioccolato fondente che mi ricorda la stessa passione che che il ricciotto dà. Secondo me è un vino eccitante. Proveremo a renderlo eccitante anche con la musica se riusciremo, ma vediamo.